Forse è quello, rammarico doppio, anche perché sapevamo di incontrare una squadra blasonata, una squadra fatta di elementi importanti, allenata benissimo, una squadra di un certo blasone che ha un obiettivo diverso dal nostro e quindi andare in vantaggio e poi essere raggiunti quando nel miglior nostro momento e anche loro in dieci, io poi il gol lo voglio rivedere perché non ce l'ho ben presente, perché ero rivolto verso la mia panchina per dare le ultime indicazioni a chi doveva subentrare. Un po' di ingenuità magari? No, la devo rivedere, ma al di là di questo sono contento dei miei, faccio i complimenti ai miei perché stiamo crescendo di partita in partita e ce la giochiamo a visaperto con tutti in maniera proprio corale, organizzativa. E' una squadra giovane, una squadra giovane che deve anche capire dei momenti quando andare e quando magari dei momenti anche di un importante palleggio dove si può anche rifiatare un attimo. Ma al di là di questo stiamo lavorando bene, sono contento del gruppo a disposizione e adesso ci aspetta soprattutto la partita impegnativa di quella di Fasano dove andiamo a trovare una squadra che ha bisogno di punti e quindi sappiamo un campo ostico e una squadra che è difficile da affrontare.